o buongiorno ma chi si vede quanta bella gente che c'è dall'altra parte metto gli occhiali perché insomma sono abbastanza cecato qual è il discorso che vi voglio propinare oggi vi avviso subito è un pippone un pippone dei miei se pensate di venire qui a scoprire quant'è il valore dei vostri orologi è ora che spegnete spegnate spegnate e ora che spegnate o comunque cambiate video evidentemente fanno tanti bei video interessanti anzi guardando youtube ed è proprio questa la cosa che mi ha colpito e che mi fa venire in mente di fare questo questo video appunto guardando youtube è tutto un fiorire di ma quanto vale salirà il prezzo dell'aitona scoprirà la bolla rollers no non scoprirà e se io compro un patec philippe è giusto che quello lilla tiffany valga tanti soldi a chi dice che non è giusto sbaglia tutto perché guardate lo vendono lo vendono e prendono tanti soldini ma se io compro un orologio poi lo tiene il suo valore e che orologio devo comprare per tenere il valore è tutta una cosa di questo tipo ok è questo tutte le volte che sento questi discorsi mi viene voglia di così utilizzare i miei apricasse quello che mi viene in mente sono queste due apricasse benissimo allora detto ciò facciamo un po di considerazioni se vi va di farle innanzitutto andiamo a dare una definizione temporale e di utilizzo che è fondamentale i veri spazi i veri passaggi dal punto di vista della della valorizzazione degli orologi non risalgono a quelli che sono i passaggi tecnologici e nella fattispecie nell'ultimo periodo il passaggio epocale tra l'orologeria meccanica il quarzo e il ritorno come prodotto di prestigio dell'orologio meccanico di prestigio con alcuni orologini cinesi e non solo da 50 80 100 euro è tutto discutibile ok il vero passaggio fondamentale come spesso succede in tutti i prodotti non ce lo dimentichiamo l'orologio un prodotto anche se la cosa è così un po un po brutta da dire no è l'oggetto della passione però allora come succede con tutti i prodotti le valorizzazioni sono legate a fondamentalmente al motivo per cui l'orologio è stato fatto abbiamo parlato nei video storici precedenti della storia degli orologi abbiamo capito che cosa servivano gli orologi mi ricordo ancora una volta i 12 il libro i 12 orologi che definiscono la storia insomma non mi ricordo mai come si chiama comunque avevo già parlato in altre cose ne parlo nei miei video eccetera comunque il concetto è quello di dire gli orologi hanno avuto una specifica funzione una funzione di affermazione del potere una funzione di definizione degli scambi una funzione di omologazione di regolazione una funzione utilitaristica in maniera fortissima per quanto riguarda il discorso della longitudine eccetera comunque gli orologi fino all'avvento del di metodi alternativi ovvero attualmente il cellulare fondamentalmente è quello che secondo me non è un orologio ma è un un terminale un'espansione del cellulare cioè lo smartwatch gli orologi avevano una funzione specifica la funzione specifica segue le basi appunto di quelle che sono le classiche regole del marketing vi parlo due minuti chiedo scusa ma vi ho avvisato è un pippone vi parlo due minuti di quella che secondo il mitico michael porter è la catena del valore ovvero ovvero al di là del valore implicito intrinseco cioè i componenti pezzi il valore delle cose che ci sono dentro a un prodotto bisogna considerare per questo prodotto per l'appunto un discorso di quali sono le attività che lo portano sul mercato perché un prodotto è fatto dall'insieme del valore intrinseco implicito appunto dell'oggetto più tutta una certa serie di attività che definiscono la catena del valore come vedete nello schema alle mie spalle si parte da un discorso di qual è per quanto riguarda l'attività primaria la logistica interna quali sono le operazioni qual è la logistica esterna qual è il marketing e le vendite il valore eccetera quali sono i servizi ok il che significa la logistica interna come sono in grado di gestire il mio prodotto come sono in grado di realizzarlo prepararlo assemblarlo renderlo disponibile rispettare i tempi di consegna rispettare i tempi di consegna successivamente le operazioni cioè qual è il valore della mia catena di assemblaggio uno dei grandi problemi appunto che hanno spesso gli orologi di costruzione cinese è che implicitamente sono degli orologi buoni per quanto riguarda la scala del valore dei componenti delle parti con cui sono realizzati poi a livello di operatività assemblaggio l'operatore che assembla il nell'immaginario collettivo e in alcuni casi non è tanto lontano dalla realtà assembla il mio orologio lo fa mentre si mangia un panino lo fa con le macchine con le mani sporche e lo fa perdendo dei pezzettini che vanno in mezzo agli ingranaggi e fanno sì mi è successo che l'orologio per un pezzettino microscopico di plastica si fermi dopo un giorno ok bene c'è la logistica esterna cioè come consegna come porta il mio prodotto l'imballaggio tutto quello che gli sta intorno c'è un discorso di marketing e di vendite come viene appunto venduto come viene promosso come viene valorizzato come viene identificato e poi c'è un discorso di servizi uno per tutti signori la l'assistenza ok e questo vale per tutti i prodotti vale per le automobili male per i computer male anche per l'orologio strumento l'orologio utile ci sono delle attività di supporto che sono per l'appunto l'infrastruttura dell'impresa cioè come l'impresa è realizzata cioè assembliamo i pezzi in mezzo alle pantegane o lo facciamo in un in una stanza sterile qual è la gestione delle risorse umane cioè sono vado d'accordo con mio personale e utilizzo del personale qualificato o utilizzo del personale incavolato che vuole crearmi dei problemi sabotarmi o che costa poco ma non è qualificato qual è lo sviluppo della tecnologia cioè come investo in tecnologia come realizzo nuovi prodotti come faccio delle innovazioni sia nel ciclo di produzione nell'industrializzazione che nel prodotto stesso gli approvvigionamenti cioè dove compro e cosa compro bene questo è un discorso che vale per tutti i prodotti tutto questo deve portare alla definizione e alla determinazione di un margine perché un'azienda che non ha un margine dopo un po chiude fallisce buonanotte ai suonatori e non mi garantisce la cosiddetta business continuity questo ripeto per quanto attiene gli orologi nel nostro caso strumento gli orologi utili tutto quello che è stato prima per l'orologio meccanico più o meno complicato successivamente per l'orologio al quarzo fino all'avvento di strumenti alternativi che ora di fatto sono quelli lo smartwatch legato allo smartphone che stanno per certi versi mangiando molte delle fette di mercato dell'orologeria e che sono considerate che sono di fatto sostitutivi per tutta una categoria di persone pensate a quanti giovani se ne fregano bellamente a giovani giovanissimi ragazzi se ne fregano bellamente di avere un orologio perché tanto il cellulare o al limite lo smartwatch gli dice tutto quello che l'orologio gli poteva dire benissimo tutti questi bei criteri di cui stiamo parlando valevano di fatto precedentemente in generale nel senso che non è che nel segmento del lusso questo non valeva valeva in funzione del fatto che gli orologi per essere degli orologi con particolari caratteristiche per cui di conseguenza essere nella fascia del lusso dovevano possedere nella appunto nel dal punto di vista del valore intrinseco dovevano avere o delle elevate complicazioni meccaniche che appunto costava tanti soldi realizzare meccanicamente cosa che ha continuato ad avere una valenza fino al quarzo perché successivamente con l'utilizzo del quarzo e di conseguenza dei chip con gli orologi attuali da questo punto di vista si riescono a fare delle cose clamorose pensate a tutta la categoria dei vari caso con tutte le funzioni con tutte le ore del mondo con tutte le varie cose tutte cose che prima costavano un milione di dollari e che adesso si fanno con 50 60 70 euro questo è un se non ricordo male un un orologio con innanzitutto è un radio controllato ha le funzioni delle ore del mondo pensate a cosa significava meccanicamente fare un ore del mondo questi sono stato un tramite sono stati il tramite verso appunto lo smartwatch che a questo punto integra tantissime funzioni questo è il mio simpaticissimo tactis ok tutto nero si vede un tubo perché perché appunto deve essere prende vita quando viene collegato al computer per cui il passaggio successivo del multifunzione elettronico è stato appunto l'integrazione con il telefono bene si si diceva questo valore dovevano comunque avercelo o legato a delle complicazioni per cui a delle realizzazioni meccaniche di altissima precisione di altissimo pregio realizzate da persone con grandi capacità o e o perché c'erano dentro materiali preziosi oro platino tempestati di diamanti eccetera 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 con il quarzo con lo smartwatch con i piedi con le mani con il culo com'è che cantava quella la sanremo ma verso è un momento così facciamocelo andar bene comunque la complicazione e la i tipi di materiali definivano appunto la il valore e di conseguenza il costo degli orologi la con la questione del quarzo prima e in maniera più massiccia degli degli smartwatch ha fatto sì che ci fossero grandi considerazioni di questo mercato molti questo mercato delle case tradizionali già fino dalla famosa crisi del quarzo e questo mercato non l'hanno non l'hanno capito non l'hanno considerato case che erano abituate a dare un certo tipo di valorizzazione trovandosi a combattere contro che aveva una tecnologia che loro avevano poco e male di fronte a delle mutate condizioni di mercato cioè a quel punto con l'orologio che diventava un prodotto assolutamente di massa e che era facilmente concorrenziato da dei prodotti molto poco costosi di conseguenza di fronte a questa situazione non riuscendo più a valorizzare appunto la loro catena del valore hanno avuto i problemi che hanno avuto chi è subentrato evidentemente coloro i quali erano in grado di andare a spostare il posizionamento di marketing di del prodotto orologio trasformando l'orologio concettualmente l'orologio meccanico a questo punto come un prodotto alternativo e andando a questo punto a mettersi o a cercare di mettersi nella cosiddetta fascia del lusso l'operazione lo sapete fu grazie al quello che poi è diventato il gruppo swatch insieme alle banche e alle banche elvetiche fu un'operazione di combattimento legata appunto all'introduzione dell'orologio swatch che se però guardate fin dall'inizio sposta quello che è un oggetto utile verso un oggetto che è un oggetto di moda il concetto del dello swatch dei primi tempi era appunto quello di dire è un orologio fashion è un orologio di moda è un orologio che viene così portato viene rappresentato dai personaggi famosi e che potenzialmente facciamo le collezioni tutti gli anni e tutti gli anni lo cambiate come si cambiano i vestiti come si cambiano gli accessori di moda ne abbiamo parlato di questo abbiamo anche parlato di quali sono a questo punto le caratteristiche classiche del marketing che è un marketing completamente diverso per quanto riguarda i prodotti di lusso non avete visto il video e adesso mi metto il come riconoscerlo sul mio canale eh sì le strategie del lusso sono completamente diverse non sto a raccontarvi tutto quanto c'è il video se avete voglia vi fa piacere e ve lo guardate e sono tutte diverse e sono per definizione addirittura contrarie al concetto di catena del valore non bisogna andare a definire dei vantaggi competitivi legati a come io faccio l'assistenza come faccio la distribuzione a che tipo di marketing riesco a fare quali sono i miei canali di vendita e qual è spesso purtroppo il valore intrinseco del prodotto sono legati a tutta un'altra serie di concetti il concetto dell'esclusività da un certo punto di vista e il concetto della inclusività per certi versi opposto ma simile facciamo un esempio di questo ossimoro con tradizione in termini allora se io vendo un marchio rendo interessante riesco a rendere interessante e desiderato questo marchio vendo insieme al mio marchio un concetto di inclusività anch'io ho il vestito di armani anch'io ho il rolex anch'io ho il mercedes quello che volete voi non sono importanti marchi ok per cui ho un concetto di desiderio la strategia del lusso è realizzare il desiderio verso diventare inclusivi di un certo tipo di marchio e di omologazione e dall'altra parte un concetto di esclusività ovvero tutti quelli che non hanno questo prodotto tutti quelli che non hanno i rolex tutti quelli che non hanno il mercedes tutti quelli che non hanno i gs della della bmw ebbene tutti gli altri sono degli sfigati tutti gli altri sono delle persone insomma a cui io mi sento perché ho comprato questo insieme al prodotto insomma io mi sento un po superiore io sono di un'altra categoria principio questo pericolosissimo sulla pericolosità di questo principio parliamo dopo in conclusione quando sarete definitivamente narcotizzati da questo mio video facciamo adesso però con una veloce considerazione sul fatto che approfittando se ne a mio avviso esagerando da questo punto di vista questo concetto di vendita del lusso fa sì che purtroppo molte delle case abbiano abbandonato in maniera quasi totale tutti quelli che sono i requisiti della catena del valore di cui abbiamo parlato prima ne sono alcuni casi il fatto che si trovano sul mercato degli orologi che assolutamente non hanno intrinsecamente nemmeno lontanamente il valore di quello che che a cui sono venduti ci sono degli orologi con dei pur ottimi e quanto mai onesti sellit su 200 venduti a 6 7 mila euro insomma qualche dubbio ce l'abbiamo non perché poi siano di oreo tempestato di diamanti ma soltanto perché hanno sopra un certo tipo di logo dall'altra parte e questo il valore implicito dall'altra parte ci sono casi in cui si stanno facendo delle scelte che vanno contro la stessa tradizione delle aziende abbiamo parlato in un video se se non l'avete visto anche di questo mi metto il tag ora ok mi metto il riferimento l'immagine per poterlo riconoscere tra e tra gli altri video rolex ha annunciato non tanto tempo fa che ha dismesso la produzione dei pezzi di ricambio degli orologi che hanno più di 40 anni cioè una marea di su mariner tanto per fare alcuni esempi ok cosa che nella catena del valore ma anche nella tradizione di una casa affidabile di una casa oggettivamente valida insomma è assolutamente in contrasto perché perché ci sono delle cose più importanti ci sono la creazione della esclusività che mi costa concettualmente meno soprattutto se una volta una volta che ho un certo tipo di profilo mi diventa facile incrementare e spingere mentre continuare a produrre dei pezzi degli orologi di 40 anni fa mi crea dei problemi economici significa mantenere delle linee di produzione non più particolarmente utile anche se poi i pezzi di ricambio me li fanno pagare una barbarità significa anche magari non avere più quelle professionalità e quelle capacità che c'erano in persone che lavoravano 40 anni fa e che magari adesso hanno fortunati loro raggiunto la pensione il mio orologio manterrà il tempo se compro se compro questo orologio piuttosto che quest'altro ci guadagnava tanti soldi non lo so signori queste sono le domande che sono più frequenti tra appassionati che si sentono fare spesso e sono oggetto di tanti video su youtube e innanzitutto fatti questi presupposti che qualche dubbio ce l'ho abbiamo parlato della bolla precedentemente della bolla degli orologi pitturati più o meno rolex più o meno tiffany eccetera eccetera abbiamo parlato della bolla di tulipani ricordate si vi metto anche questo non c'è problema stante queste condizioni oggettive ognuno faccia le sue valutazioni e allora che orologio compro siamo sempre al solito discorso compri l'orologio che ti piace l'orologio che ti dà garanzia di potenzialmente di dare e di avere continuità nel tempo c'è anche qui una contraddizione in termini tanti micro brand nella speranza che possano sostenersi e questo potrebbe essere il rischio però tanti micro brand hanno un apporto è un approccio ancora molto legato a un discorso di catena del valore perché non avendo il blasone di marchi molto più famosi sono tra virgolette costretti in molti casi non è una costruzione è filosofia del proprietario ma ecco sono in qualche modo portati a fare un discorso di maggiore oggettività di assistenza di garanzia nei confronti del cliente e utilizzano tendenzialmente dei prodotti che sono dei prodotti standard ok innanzitutto un sv200 su un orologio da 2000 euro piuttosto che su un orologio da 450 in titanio e non voglio fare considerazioni su questo ha ben altre ben altro senso ok 450 4500 sono una 10 e tanto per fare delle considerazioni ma poi a questo punto l'SV200 ci mette le mani sul componente in silicio sul componente in non si può chiamare plastica chiamatela come avete voglia se non vai alla casa molto brevemente fai fatica sia a ripararlo di conseguenza ci perdiamo tutto il circuito degli orologiai indipendenti e le case a questo punto neanche ti forniscono i pezzi per cui li vai se vuoi andare e segui quello che loro ti dicono che in alcuni casi anche nel passato si è dimostrato essere anche su magari pezzi di vintage per cui con un valore legato alla loro storia ti cambio il componente e arrangiati perché perché l'ho deciso io facendo crollare totalmente il valore del pezzo vintage in quanto tale ok e comunque c'è anche quest'altra questione non vengono più forniti gli orologiai indipendenti e se vuoi l'assistenza vai come e quando decidono loro alle case per cui secondo me il mercato l'ho già detto in altre occasioni si andrà segmentando verso il prodotto di basso prezzo basso livello relativamente e più o meno standard e qui signori rendiamoci conto i cinesi l'est la farà da padrone anche perché loro stessi stanno aumentando i prezzi sono entrati con l'orologino scrauso da 80 euro adesso stanno facendo degli orologi di ben alto livello qualitativo chiamate le ciofeche se volete non è importante ma da 250 a 230 euro con delle qualità intrinseche oggettive veramente significative ogni riferimento ai bistrattati san martin o san martin è assolutamente voluto ok chi non dice questo avrà i suoi buoni motivi i suoi buoni motivi possono essere dei motivi oggettivi e allora sarebbe bello se ce lo giustificasse se ce lo giustificassero non sto parlando di nessuno in particolare attenzione se ci vedete dei riferimenti a qualcun altro assolutamente non ci sono è chiaro che però una politica una considerazione di questo tipo non è tanto bella nei confronti di coloro i quali si fanno portatori della promozione di case nella promozione di rivenditori nella promozione di concessionari signori vi ascoltano vi ascoltate cosa cosa vi viene detto e tenete conto del perché uno dice io vi posso dire da parte mia che lo dico perché non penso posso anche sbagliarmi ma a me nessuno dà niente stavo per dire sfortunatamente ma francamente c'è stato anche chi si è molto gentilmente offerto di così di di passarmi orologi di di chiedermi recensioni eccetera ma insomma non mi sembrerebbe corretto non perderei quella che è la mia indipendenza e non potrei più esprimere delle mie opinioni da questo punto di vista morale vedete voi ok io sono convinto che il mercato si segmenterà orologi chiamamoli da divertimento spendemi 100 euro mi compro il mio begnar mi compro il mio pagani design me lo godo mi ci diverto ci faccio cretino in alcuni casi mi dovrà anche gli orologi di una fascia media secondo me soprattutto si andrà verso i micro brand italiani e non solo e spero che gli italiani in transenso facciano sempre di più e spero che vengono apprezzati anche di più di quello che sono attualmente dall'altra parte le grandi case con dei prodotti che andranno sempre di più verso il lusso e andranno verso un mercato legato signori cari non agli appassionati come possiamo essere noi ma legato a coloro i quali oggettivamente pur non capendoci niente degli orologi hanno i soldi per comprarsi quei prodotti di lusso diciamocelo chiaro alle grandi case di noi non gliene frega niente poi quando la grande casa nel suo passato nella sua storia è in questo senso la grande opportunità del vintage mi dà degli orologi che hanno valori intrinseci veramente validi e a questo punto anche il nome blasone le referenze eccetera bene sono contento di comprarmi e se domani fanno degli orologi e insomma ne fanno ancora e ci mancherebbe altro di notevole valore sarà bello poter acquistare avendo e potendoselo permettere degli orologi delle grandi case di assoluto blasone io sono convinto che l'appassionato però abbia un pochino anche il dovere di andare a identificare e cercare dei prodotti che siano dei prodotti insomma dove si capisca che lui è un appassionato dove si capisca che lui fa una ricerca e dove si capisca che lui ne capisce appunto comprare si fa per dire il grande orologio coronato da 30 mila euro sono capaci tutti a fatto che abbiano i 30 mila euro ok bene vi metto appunto queste due queste due immagini dei due precedenti filmati di cui ho parlato e poi facciamo una conclusione con una considerazione che ci tengo a fare parliamo sottovoce perché a questo punto dopo 28 minuti molti di voi si saranno addormentati e soprattutto si sarà addormentato il mio amico alessandro restivo che dice che ascolta sempre i miei video mentre lavora e se li sente in sotto sottofondo per cui non lo voglio svegliare alessandro sveglia alessandro dai ragazzi andiamo avanti ok perfetto voglio concludere una cosa che sembra centri con una cosa che sembra centri molto poco ma secondo me c'entra tanto abbiamo parlato di principi quali sono l'inclusione e l'esclusione e qual è un discorso di omologazione principi che io trovo soprattutto di questi tempi molto molto preoccupanti perché il fatto di dire se tutti abbiamo dello stesso tipo di ambito lo stesso tipo di vestito lo stesso tipo di vita lo stesso tipo di idee significa essere da un certo punto di vista estremamente tranquillizzati ma dall'altro punto di vista significa a priori rinunciare la propria identità cosa che io penso sia gravissima e sempre di più con discorsi di questo genere si va verso una considerazione che è una considerazione di esclusione di coloro i quali sono diversi e questi diversi vanno circondati vanno ricondotti a più miti consigli e vanno a loro volta omologata trovate queste cose banalmente sui social quasi quotidianamente addirittura a livelli assurdi ne abbiamo già parlato no cioè tu non hai quel particolare orologio e allora tu sei un diverso tu non capisci niente ma anche tra colori quali hanno questo particolare orologio c'è un discorso di così di segmentazione io sono più figo perché ho la referenza 1 2 3 mentre tu hai la 3 2 1 che non va bene più persone dicono la stessa cosa più si va verso un discorso preoccupantissimo di omologazione voi direte non sono sicuramente queste le cose che preoccupano e che possono avere dei dei riferimenti o comunque delle evoluzioni clamorose o ripeto preoccupanti totalitaristiche eccetera no però è tristamente il seme di qualcosa che scusatemi ma a me spaventa molto vi invito ad affermare la vostra individualità vi invito a mettervi un orologio che avete trovato soltanto voi il l'orologio pronto pronto nel senso di marca che voi avete scoperto essere una marca che comunque è una è stata una marca svizzera che ha chiuso e che faceva degli orologi carini vi invito a portare l'orologio lip vi invito ad avere un un tasca nel panciotto nel gilet oppure avercelo nella tasca dei jeans sapete che la levis aveva fatto il famoso taschino che noi adesso utilizziamo come portamonete l'aveva sviluppato per i cowboy e per per far sì che potessero metterci l'orologio da tasca se questo non c'è la mia soluzione adesso è che mi compro un bel porta accendino come questo vedete qui c'è la sua clips per attaccarlo va bene e mi ci infilo dentro il mio bel orologio da tasca bene non serve essere diversi in quanto tale ma se mi piace un orologio da tasca perché non lo devo portare tra l'altro la vita di adesso tra smart working e incontri formali mi porta comunque a superare se vogliamo il concetto dell'orologio da da polso che come già sapete era stato introdotto per i militari nella nella prima guerra mondiale bene vi invito fortemente a manifestare la vostra individualità sempre di più e a non conformarvi a quelle che sono così i messaggi dei degli di chi ha interesse a farvi a farvi uniformare ok abbiamo fatto tanti vaccini contro il covid abbiamo fatto i vaccini contro l'influenza forse sarebbe ora di inventarci un vaccino contro gli influenza ok vale io non sono un influencer sono un cialtrone che condivide quello che pensa con voi ma anche quello che vi dico io cioè pensateci se non siete d'accordo anzi avete visto che io non cancello nessun commento rispondo a tutti se non la pensate come me mi fa solo piacere parlarvi condividere le opinioni con voi ritorno al discorso di prima mi direte non è l'omologazione non è pericolosa vi metto in così il riferimento di un film molto interessante che si chiama l'onda che fa riferimento appunto a un esperimento degli anni 70 fatto in un liceo di palo alto in california questa cosa la trovate su su wikipedia la trovate su youtube anche qualcuno ci ha fatto dei video come la terza onda perché questo signore qui con questi principi di omologazione aveva per l'appunto sviluppato serveva per spiegarlo gli studenti in qualche modo l'inizio di un regime appunto chiamato la terza onda non mi resta che salutarvi a questo punto con il loro saluto alla prossima